Nei giorni scorsi ha fatto la comparsa la nebbia, non solo nelle nostre vallate ma anche a livello del mare, sia di sera che di giorno. E a Fano, come in altre città di mare con il porto, nebbia fa rima con nautofono, il dispositivo acustico posto sul molo di ponente che guida in atanti all'imboccatura del porto. Un suono a cui i fanesi sono particolarmente cari lo dimostra il dispiacere profondo creato ai marinai dell'annuncio nel gennaio del 2012 del Comando Zona Fari della Marina Militare di Venezia da cui si disponeva che Fano doveva mandarlo in pensione. Da lì in poi una raccolta firme e petizioni popolari e sprombattuto che furono raccolte dalla politica che si interessò di questo pezzo della storia della marineria fanese. E così il 5 ottobre del 2013 arrivò la comunicazione dalla Marina alla Capitaneria di Porto e dal Comune di Fano che il nautofono poteva essere ripristinato sotto la gestione del Comune vista la sua disponibilità. Ma siamo arrivati fino al 23 dicembre dello scorso anno per vederlo rinstallare di nuovo e poi per sentire il suo primo ululato l'8 gennaio di quest'anno in occasione, come in questi giorni, di una fitta nebbia sulla costa. Ora però è nuovamente silente, niente ululato, niente romantica atmosfera da lupi di mare che però ben ricordano il suo significato e il prezioso aiuto che questo supporto sonoro rappresentava per loro. C'era piacere sentire da casa nelle notte di nebbia, di neve, sentire quel rumore dell'autofono che mi dava un senso di una persona che si lamenta. Per voi i marinai era un supporto importante? Sì, sì. Tornavate a casa? Veramente, anche quando ho navigato era un supporto, non c'erano gli strumenti di oggi, ma era un supporto veramente importante. Quindi adesso lei chiede che questo nautofono funzioni? Sì, sì. Io ci tengo che funzioni. Come tutte le apparecchiature, ahimè, anche il nautofono di ultima generazione installato sullo porto di Fano è soggetto a guastarsi. Ma ci assicurano dal comune che è già partita nelle scorse ore la richiesta di intervento urgente alla ditta che lo ha installato. Quindi a presto, festività permettendo, il suo ululato tornerà a farsi sentire. Nel frattempo i natanti che devono rientrare, soprattutto coloro che lavorano in mare, hanno a disposizione in caso di nebbia gli ausili visivi che vengono accesi anche di giorno, i messaggi via radio della capitaneria e il segnale radarabile del porto. E per le imbarcazioni di stazza superiore ai 15 metri c'è la tecnologia che va in loro soccorso dell'AIS, uno strumento a bordo delle navi che ne segnala la loro posizione in mare. Ed in caso di difficoltà possono essere così guidate in un porto sicuro dalla Guardia Costiera.